we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi wow che giorno che sta per arrivare oggi ci saranno tante cose da scoprire per quanto riguarda l'evento di travis scott e oltre all'evento ovviamente tutte le ricompense che potremmo ottenere gratis semplicemente partecipandovi una roba disposta su più giorni ora vi farò vedere e ci saranno anche tanti tantissimi altri regali che non c'entrano però con travis scott prima volevo però subito ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notizia sui miei video news ma non voglio dilungarmi troppo e passerei subito alla domandina ci tengo tanto a leggere i vostri commenti proprio qua sotto e la domanda di oggi non poteva che essere questa ma tu alla fine quale skin preferisci delle due che sono uscite ieri riguardanti travis scott proprio lui oppure astro jack beh ragazzi sono veramente belle tutte e due travis è fatto davvero davvero bene però io preferisco astro jack mi piace tanto la colorazione mi piacciono tanto gli stili fantastico anche il backpack io voto per astro jack dimmi invece qual è la tua preferita proprio qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e mando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a leggere una roba incredibile che ci arriva da adesso arriveranno nei prossimi giorni o comunque in un lasso di tempo non troppo lungo i nuovi server africani una notizia che potrebbe anche non interessarvi ma in realtà dovrebbe interessarvi perché perché comunque i server africani potrebbero scaricare un pochettino di peso sul lag di alcune persone magari gente che dall'africa si allaccia direttamente ai server europei spero davvero che questa cosa arriverà nel più breve tempo possibile anche perché fortnite african servers è nell'ultima 24 ore un tweet che ha ricevuto ben 39.5 mila tweets quindi una cosa davvero incredibile ci sono anche dei movimenti per quanto riguarda appunto lo staff di epic games che dovrebbe pronunciarsi nei prossimi giorni ce lo auguriamo tutti una cosa in più da sapere che migliorerà sicuramente l'esperienza di gioco ma andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi ed eccolo qua alle mie spalle quello che tutti vogliamo sapere vogliamo scoprire quando mi canta il travis non sono capace non so cosa fa nuoto oppure non allora queste sono le date dei concerti come si legge quest'immagine che ci sono che sto facendo vedere allora la prima ragazzi è il 23 aprile come vedete ragazzi sono tante tante da tanti orari se guardate là in alto ed iti bst ast pdt gmt sono i fusi orari il primo ve lo dico io il primo concerto di travis sarà oggi alla una del mattino in realtà è già passato perché la una del mattino di oggi arrivederci ai sognatori è stato un piacere dovete guardare ragazzi il 24 aprile che è il prossimo show sempre dello show numero 1 12 am bst 9 am aest è lo stesso orario come fate a capire come capire in che ora si fa voi scrivete su google 12 am bst in italia in questo modo capirete il fuso orario e qui ragazzi lo potete fare appunto per tutti gli show il 24 aprile poi c'è anche il 25 aprile poi c'è anche il 26 e termina appunto con il quinto show sempre del 26 aprile tenetevi bene a mente questa schermata perché è molto importante si riceveranno ovviamente dei premi il premio che ci interessa più di tutti comunque il più bello è ovviamente il deltaplano che vi faccio vedere in questo momento mentre vi parlo sotto è veramente meraviglioso una qualità notevole un regalo sicuramente ben apprezzato si cavalca ovviamente questa macchina chiamiamola così è una carrozza delle montagne russe se proprio dovessimo essere precisi ma insieme al deltaplano riceveremo anche le due schermate di caricamento quindi tanta tanta roba la prima dovrei avercela qua in eccoli qua ragazzi in dimensioni un pochettino più grandi ve ne avevo già accennato ieri ma oggi vale davvero la pena sapere quello che dobbiamo fare comunque avrete tempo per ricevere i premi non preoccupatevi gli show sono tanti partecipate e sicuramente lo otterrete guardate che meraviglia ad esempio questa immagine ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ragazzi e si parla di altri regali e sono regali molto più molto diversi da quelli che vi ho appena fatto vedere si tratta di uno spray ma anche di una copertura per le armi questi regali non c'entrano niente con travis scott ma sono dedicati alle finali del twitch rival super games allora il twitch rival super games è stato disputato alle due di questa mattina in diretta però però non è detto che non otterrete questi premi se per caso ve lo siete perso ovviamente per ottenerli dovete guardare per 30 minuti con l'audio e ragazzi mi raccomando tenete l'audio perché sennò non vale la cosa non chiedetemi perché ma ho saputo che è questo anche se lo mettete al minimo comunque tenetelo sempre e tenete a schermo intero è attenzione un'altra cosa molto importante dovete avere ovviamente il vostro account collegato è semplicissimo per collegarlo per chi non lo sapesse andate nel sito di ap games accedete con il vostro account nella colonna di sinistra in basso c'è scritto account collegati da lì dovete cliccare su twitch e vi chiederà semplicemente il nome e la password del vostro account twitch in questo modo gli account saranno collegati e come è successo ad esempio in una mia live qualche giorno fa troverete sotto il sotto lo schermo della live dello streamer drop abilitati io credo che altre persone avranno i drop abilitati per questa cosa non vi preoccupate cercherò di tenervi aggiornate aggiornati anche se spero che ovviamente siate riusciti a ricevere questo premio e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ragazzi questo vi dico subito se non volete che vi spoilero l'evento non leggeteli però comunque neanche io li so sono semplicemente delle cose che accadranno durante questo evento come vedete avremmo fiamme lo sappiamo avremo costo che sono le montagne russe ovviamente dai era era palese era palese abbiamo giochi shockway quindi anche effetti pirotecnici fuochi d'artificio fulmini fiamme tanta tanta roba sappiamo però che guardando l'evento di trevis ci sarà la possibilità di nuotare con un'emozione particolare intorno al palco a nord di sabbie sudate quindi davvero molto molto interessante anche questa cosa e mi sono perso di farvi vedere un video ragazzi quindi mi riallaccio molto velocemente questo che vi sto facendo vedere proprio in questo momento è la copertura che ci verrà regalata come vedete guardando le finali del twitch rivals come vedete ragazzi è tanta tanta roba perché è animata e devo dire che l'effetto dell'occhio su alcune armi beh mi piace davvero davvero tanto mi ricorda sempre quei murales che vedevo quando ero bambino negli anni 90 ragazzi aveva sempre l'occhio mezzo insanguinato mezze cose tanta tanta roba comunque sempre da ringraziare ovviamente happy games e twitch in questo momento per darci dei regali in un gioco completamente gratuito senza chiedere cash e dovremmo essere arrivati alla fine no solamente un ultimo dettaglio ragazzi per chi non lo sapesse fortnite è una compagnia che è arrivata ad avere un valore di 15 miliardi di dollari perché noi billion non utilizziamo ovviamente come parole è una cosa veramente incredibile soprattutto quando in questi giorni la community di fortnite è tornata in massa a rigiocare forte anche del fatto dell'evento di travis ma comunque come vi avevo già anticipato ieri sono molto molto contento che si sia riaccesa in molti di voi la passione di questo battle royale che ritengo essere sicuramente una pietra miliare della storia videoludica beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video news mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali noi anzi io sono proprio adesso in live su twitch ciao